E' il 2 aprile la data scelta dall'ONU per parlare di autismo, celebrazione in tutto il mondo per la giornata internazionale denominata Blue Day. Anche il comune di Cosenza ha scelto di aderire alla manifestazione attraverso un'iniziativa presentata nel corso di un incontro con i giornalisti che si è svolto nel salone di rappresentanza di Palazzo De Bruzzi. Il Blue Day per noi è molto importante perché abbiamo cominciato quest'anno un dialogo molto serrato con le famiglie, con le associazioni, con gli operatori, i terapisti e stiamo cercando di dare sostegno in varie forme. Credo che stiamo dimostrando agli agenti di questo settore che noi vogliamo essere protagonisti insieme a loro di una maggiore diffusione di informazioni, ma anche di servizi che possono essere di assistenza e che devono essere, secondo noi, inquadrati in un'ottica di sistema. La giornata dunque come occasione di approfondimento su un disturbo neuropsichiatrico sulle cui cause ancora poco si conosce, ma in merito a cui si è potuto accertare che si tratta di un disturbo che si è affrontato per tempo consente significative possibilità di recupero. L'esigenza di sensibilizzazione nasce perciò anche da alcuni dati che per quanto riguarda il Sud Italia restituiscono un quadro di gravi lacune sul fronte del supporto agli autistici e alle loro famiglie. Noi, con la nostra associazione Benessere Bambino, fondata nel 2008 e ispirata ai diritti dell'infanzia, non vogliamo disattendere questa tematica. Questo è il secondo evento che noi abbiamo voluto proporre, una seconda edizione, iniziata per noi a Rende Cosenza nell'anno scorso, nel 2013. Per la giornata mondiale dell'autismo abbiamo pensato di fare sostanzialmente divulgazione, che è la ragione per cui poi nasce questa iniziativa. Sensibilizzare famiglie, operatori sociali, enti, chiunque, affinché il problema dell'autismo venga conosciuto meglio. Saremo al Metropolis, ai due livelli, nelle due gallerie. Accoglieremo anche i più piccoli con dei palloncini, distribuiremo materiale informativo e saremo anche a Piazza 11 Settembre a Cosenza, dove faremo le stesse attività divulgative.